Edoardo Vergani e Jacopo De Sogus, due giovani puntelli per l'attacco, hanno contraddistinto l'ultimo giorno di calcio a mercato del Pescara, che ha chiuso i battenti alle ore 20. Edoardo Vergani, classe 2001, arriva a titolo definitivo dalla Salernitana, con cui lo scorso anno ha collezionato sei gettoni in Serie A, dove aveva debuttato con la maglia del Bologna nel dicembre 2020 contro l'Inter, club nelle cui giovanili è cresciuto. Era stato accostato al Pescara anche due settimane fa. La mancanza di concrete offerte dalla B ha convinto l'attaccante ad accettare la proposta del Delfino in terza serie. Jacopo De Sogus arriva in prestito dal Cagliari, è un esterno classe 2002, che ha trovato spazio in questo mese di agosto con gli isolani, tanto da giocare le due gare di Coppa Italia e partire titolare alla prima di campionato contro il Como, giocando 55 minuti. Innesti che si sommano a quello dello slovacco Lyubomir Tupta, andando a implementare il reparto d'attacco che si basa su Cupone e Lescano, che sono in biancazzurro da inizio ritiro. A Milano, in questo ultimo giorno, il presidente Sebastiani e il DS Dellicarri hanno anche tentato il colpo Simone Edera dal Torino, un altro attaccante, ma senza centrare l'obiettivo. Il colpo più importante di queste ultime 48 ore, così è Luca Palmiero, l'uomo d'ordine che mancava, che il tecnico Alberto Colombo aspettava e che arriva dal Napoli al fotofinish. Un ritorno, quello del play napoletano, già a Pescara nella stagione 19-20, quella contraddistinta da pandemia e salvezza di Ferragosto a Perugia. Stavolta però Palmiero non arriverà in prestito in Rival Adriatico, ma diventa uno giocatore di proprietà del Pescara, dopo aver risolto il contratto con Napoli e aver firmato quello biennale con il Pescara con opzione per il terzo anno. Palmiero torna in C dopo aver vinto i play-off con il Cosenza nel 2018. In B, sempre in prestito, ha giocato con Cosenza, Pescara, 24 partite e un gol, Chievo e ancora Cosenza, 30 presenze lo scorso anno. Sul fronte delle uscite è andata in porto la gestione di Davide Veroli al Cagliari, trasferimento a titolo definitivo, il terzo prospetto che saluta Pescara dopo le cessioni di Sorrentino e delle Monache, anche se quest'ultimo resta in prestito in Riva all'Adriatico fino a fine stagione. Per il difensore di origini marchigiane, il club biancazzurro incasserà una cifra che si aggira sui 700 mila euro più il 50% sulla futura rivendita. Giornata meno proficua per le altre cessioni che Delicari e Sebastiani avrebbero voluto portare a termine, e suberi quali il terzino Alessio Rasi e il mediano Marco D'Aloia, ma anche giovani da mandare altrove a giocare, come gli attaccanti Marco Chiarella, che è stato vicino al Mantova, e Vladislav Blanuta.